E salve a tutti ragazzi, sono PeppeggioGamers e questa volta siamo su GTA Online con ospite NMossSmile Sì sì Allora, tu che ti prendi? La Kuma? Tu ti prendi la Kuma o la Ruffian? La Ruffian? No, io prendiamo... Allora, io scelgo la Kuma che è molto più potente di tutto Rockfucking Baby E adesso ragazzi, non so se ve lo sentite NMossSmile o no Comunque non pensate che sto parlando solo Ma sicuramente lo sentirete Adesso dice anche lui Naturalmente ragazzi, naturalmente ragazzi Lui, anche lui sta facendo un video Intanto sentirete sempre Come le dream dream Perché ci sono uno che mi sta mandando 3.743 mila inviti al party Porca vacca Però ragazzi, quindi vi consiglio di iscrivervi anche al canale, se volete Al canale di NMossSmile Anche lui fa video di GTA Come me Comunque anche lui fa video di GTA come me E li fanno solo di Destiny, di Minecraft, di tutto Porca vacca, non urlarmi nelle orecchie Mi sta suonando Bug della moto E ci siamo Tomb Life Baby No, 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 no Porca vacca E ci siamo Hello, bitches Yeah Grandi, grandi, belli, belli Cioè Non neanche parto Mi mostriamo Come il nostro smile Non sa neanche fare un cazzo E' preso Guarda, lo giuro Se mi schiattavi Vabbè, a parte che sono caduto Sono caduto in modo strabiliante No, no, mantieni di no, no, no Ma perché non mettevi gara malato come l'altra volta? Come avevo fatto nel secondo video Che sembrava che parlavo solo io Perché non si sentiva Come la sensatività No Sì Infatti Gliel'ho insegnato io Come una riga di video Cioè Peppe Gio Gamer Voi del canale Nintendo Mastermind Iscrivetevi anche Al mio Perché Sì Sì perché io Sulle cose tecniche Non ci sono proprio Ragazzi Secondo me questa gara Decisamente impossibile Si dividerà In due parti Credo No È concluso Io Fammela finire Fa un culo E lo va A fare Il culo Vabbè E Concludiamo In Seconda posizione No Per poco Dai Ok ragazzi Comunque Ci mancano altri Quattro minuti Per la fine Del video Naturalmente Ragazzi Se volete Scrivetemi Anche Nei commenti Se volete Il nome Dele gare Malate Che più Vi piacciono Se li volete Diciamo Scritti Nei commenti Così Chi tiene La Playstation 4 Computer O qualche Altra cosa Le potrà Trovare Come Sempre Ogni video Ragazzi Siamo Arrivati Al Termine So Che i video Durano abbastanza Pochi Per me Io l'ho appena Incominciato Abbiamo finisce Ragazzi Mi dispiace Ma io Solo 15 minuti Poi farò Un'altra Doppia iscrizione A youtube Che Dice Che posso Fare i video Più In più Video Più video Cioè Di più Più Lundi I video Li potrò Fare Dunque Ragazzi Aspettiamo Altri Due Minutini Mentre Non Si Carica Ok Ragazzi Andamass Smile Anche lui Ha finito Il video Spero Che Il video Quando Lo Andete A Vedere Vi Piaccia Come Come sempre Se volete Iscrivetevi Lasciate Un mi piace E Condividetelo Su facebook Dove altro Volete voi Così Mi aiuterete A far Crescere Sempre Di più Il canale Ve lo ripeto Io Io Voglio Solo Cioè Neanche li pretendo Iscritti Io Solo Per Aumentare Sempre Il canale Se Mi fate Vedere Il vostro Supporto Perché Adesso Sono deciso Se Il vostro Supporto E Poco E Ben Presto Finirà Non è Che Posso Per esempio Fare Troppo Per esempio Comprare 30.000 Giochi E fare Ma Però Vedo Che Il vostro Supporto Ragazzi Sta Crescendo Sempre Di più Sempre Di più E Facciamolo Crescere Con Iscritti E Cose Varie Poi Ragazzi Ci saranno Altri Video Con Il vostro Smile Suo Canale Quindi Ripeto Iscrivetevi Se Volete Iscrivere Condividetelo Lasciate Anche Un Bellissimo Like E Da Peppe Gio Gamers È Tutto Al Prossimo Video Ci Vediamo No No Prossimo Grazie a tutti.